Salve a tutti e bentornati per questo nuovo video e da moltissimo tempo che non vedevo un dominio del genere in una partita tra due top players nel gioco degli scacchi. Una partita pazzesca. Si affrontano Magnus Carlsen, numero 1 al mondo, e Jan Nepomnici, top player, anche lui, primi 3-4 al mondo. Vi ricordo che Nepo è stato lo sfidante del campione del mondo per due anni di fila, non un giocatore qualsiasi. E il dominio in questa partita da parte di Carlsen è qualcosa di mai visto prima. Sono rimasto perplesso, lo è rimasto anche Nepo. Nepo sembrava scioccato, sembrava aver visto un fantasma praticamente. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui. Siamo al Crunch Labs Masters Champions of Chess Tour. Si affrontano Magnus Carlsen contro Jan Nepomnici. Non è una partita qualsiasi. Partita a 10 minuti più 2 secondi di incremento, quindi il tempo per riflettere c'è. Ora qui vi chiedo di fare attenzione e di vedere la partita, perché è un dominio assoluto da parte del bianco. Ed è una partita che fa riflettere, uno dice ma com'è possibile che pure a questi livelli, negli scacchi, il gioco sia così veloce, duri poche mosse, uno possa vincere appunto con un attacco del genere. Sì, tutto è possibile perché gli scacchi oggi sono un gioco spettacolare, sono un bel gioco. Grazie anche ai motori, studi delle varianti in cui se l'avversario c'entra può essere anche 3200 di forza, ma io l'ho studiato con alfa 0, 3500, perde l'avversario, così è. Carlsen gioca con i pezzi bianchi e apre con pedone 4. Nepo risponde con c5, difesa siciliana. Segue cavallo f3, pedone d6, pedone d4, quindi niente di speciale, siciliana aperta, pedone per d4, cavallo per, Nepo continua con il cavallo f6, Carlsen sviluppa il cavallo in c3, difende il pedone in e4, Nepo gioca pedone a6, ovvero la Neidorf. Ora, come ben sapete, la Neidorf è una delle migliori risposte contro e4. Molti grandi maestri sostengono che sia l'apertura proprio migliore in risposta a e4. Carlsen gioca alfiere e2. Nepo continua con g6. Con questa mossa, in pratica, stiamo rientrando nel dragone. Quindi Nepo qui rischia qualcosa perché deve giocare per vincere. Tuttavia, come vedete, la posizione è completamente pari, quindi non è questo l'errore, è una mossa teorica dal libro. Carlsen spinge in g4, gioca la mossa migliore, quindi sa quello che deve fare. Nepo continua con alfiere g7. Segue pedone g5, di nuovo Carlsen gioca la mossa migliore. Cavallo h5 per Nepo, iniziamo ad uscire fuori dalle linee. Carlsen gioca alfiere e3. Segue cavallo c6 per Nepo, Carlsen gioca cavallo b3. Questa è l'unica mossa sbagliata da Carlsen apparentemente, dice mossa mancata qua. Sarebbe stato meglio giocare cavallo d5. Carlsen gioca cavallo b3. Però attenzione, perché più sciamo fuori dalle linee, peggio è per entrambi, teoricamente. Torna. Perché ora Nepo non è che gioca a caso. Beh, qualche preparazione ce l'ha. Carlsen lo stesso, perché fino ad ora stava mettendo tutte le migliori. Quindi ora stiamo proprio uscendo, perché Nepo è da un po' che commette qualche imprecisione. Arriva la prima imprecisione di Carlsen. Benissimo, possiamo dire partita nuova. Andiamo avanti. Alfiere e6 per Nepo. Pedone f4 per Carlsen. Carlsen prende spazio sul lato. Dire vuole chiaramente giocare f5 e poi magari cercare di arroccare lungo. Vi dico solo che comunque questo è un piano standard contro la Neidorf, ma Nepo è rientrato in un dragone. Quindi qui siamo passati ad un altro tipo di apertura. Segue torre c8 per Nepo. Cioè, non sta sbagliata pure questa, tra l'altro. Però, logica. Prende una colonna semi aperta con la torre. Carlsen gioca f5. Con f5 sta attaccando l'alfiere in e6. Quindi non perde tempo a catturare il cavallo per guadagnare un pedone, ma attacca l'alfiere. Nepo decide di dare via l'alfiere per il cavallo. Cattura in b3. Carlsen riprende di pedone. E in questa posizione Carlsen ottiene la coppia degli alfieri. Sapete che quando la posizione è aperta, la coppia degli alfieri ti dà un po' di vantaggio. Ed effettivamente qui la posizione è molto aperta. Con entrambi i re al centro, il bianco ha preso un sacco di spazio. Segue alfiere e5 per Nepo. Nepo qui non sa che pesci prendere. Nepo qui è completamente di fuori. Non so cosa stia giocando esattamente. Però lui è il numero 4 al mondo, ragazzi. Magari qualcuno scriverà Madonna che partita inguardiabile. Nepo è il numero 4 al mondo. Cioè, non è una partita inguardabile. Perché praticamente se prendiamo tutta la popolazione mondiale e la facciamo giocare contro Nepo perdono tutti, eccetto tre persone praticamente. Cioè, questo ci dice la classifica mondiale. Segue alfiere per cavallo da parte di Carlsen. Pedone per e Carlsen gioca cavallo d5. Di nuovo, non perde tempo a catturare in h5, ma gioca cavallo d5. Che è una mossa bellissima. Ed è giusto qui metterla come grande mossa. Perché Carlsen vuole entrare in b6. Attaccare la torre oppure attaccare la donna con l'alfiere. E fa malissimo un pezzo in b6. Veramente. Non so se ci avete mai giocato contro con un pezzo in b6 difeso. Tanto tempo fa Karpov venne in Italia. Giocava il torneo a reggio Emilia. E in pratica disse. Beh, con un pezzo in b6 hai partita persa. Cioè, questo praticamente, non lo so, 30 anni fa praticamente, ok? Ancora oggi valgono queste cose. Pedone e 6 per Nepo. Un Nepo totalmente in crisi qui. Proprio. Non ci crede neanche lui. Segue pedone per e6. Pedone per e6. E Carlsen cattura in h5 con la donna. Cioè, ma questo ragazzi è un massacro. Ma avete visto il nero? Cioè, i pezzi pesanti del nero non sono mai usciti fuori. Il re è rimasto al centro. Ma dove vogliamo andare? Tra l'altro il re si trova sotto scacco. Cioè, ma stiamo scherzando. Dove può andare il nero qui? Nepo decide di giocare il re in d7. Tra l'altro è la mossa migliore. Però attenzione. Già c'è lo scacco per guadagnare la qualità. In più Carlsen potrebbe entrare a dare scacco con la donna. E magari cercare di catturare in e6. Cioè, io non ho mai visto niente del genere. Magnus Carlsen torna più in forma che mai. Ma fa impressione che riesca a battere Nepo con una facilità disarmante. Cioè, qui, io non lo so. O psicologicamente Nepo è stato sottomesso. Oppure Carlsen è troppo forte. C'è qualcosa che non quadra qui in questa partita, no? Vi torna, ragazzi. Cioè, ci manca solo che praticamente Nepo accusi Carlsen di cheating. Perché ha perso 3-0. Vi rivelo già il risultato. Cioè, 3-0 a casa. Un Nepo che poi è rimasto così. E ha chiuso la webcam. È scappato. Donna F7 per Carlsen. Attacca il re da scacco. Nepo si para di cavallo. Gioca la migliore. Segue cavallo B6. Aia. Scacco di nuovo. E qui è un casino. Perché è un casino? Perché intanto stai per perdere la qualità. Ma dopo che tu sposti il re, rimane anche il pedone in e6 in presa. Cioè, questa è già da abbandono. Cioè, qui Nepo veramente sta facendo una figuraccia, ragazzi. Assurdo. Segue re C7. Cavallo per torre. Re per. E Carlsen da scacco con donna per e6. È giusto. Cioè, guadagna anche un pedone. Cioè, ha più 4 di materiale. Cioè, pazzesco. Più 4 di materiale. E invece di vantaggio posizionale gli dà più 3. Ma più 3 è tanto, eh. Nepo gioca re B8. Cerca quindi di salvare il re di metterlo al sicuro. E poi dopo di coordinare i pezzi per cercare un controattacco. Ma dopo, 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 dopo. Cioè, nel senso, gli servono un sacco di mosse. Si vede che non è mai entrato in partita qui. Carlsen arrocco a corto. Guardate con che decisione e con che tranquillità. Addirittura anche se il pedone è in G5. Quindi questo arrocco, cioè, non è così forte, no? Questo arrocco. Il re non è proprio al sicuro. Eppure i pezzi del nero fanno schifo. Segue. Cavallo C6 da parte di Nepo. Carlsen gioca a torre F7. Cioè, tutto semplice, ragazzi. Tutto facile. Torre in settima, traversa. Nepo continua con cavallo D4. Attacca la donna. Carlsen continua con donna D5. Minaccia scacco matto in una mossa. Nepo ritira il cavallo. Cioè, mosse inutili. Mi giochi cavallo D4 per poi giocare di nuovo cavallo C6. Ma che cosa la stai giocando a fare questa partita, allora? Cioè, qui è giusto essere duri. Cioè, secondo me, nei commenti. Perché sei il numero quattro al mondo. Stai perdendo 2-0. Hai impostato una partita, cioè, una partita vergognosa. Una partita ridicola. Ok? Con tutto il rispetto, eh. Con tutto il rispetto. Cioè, Nepo è molto più forte di me, ok? Io contro Carlsen reggerei meno di lui. Però, ragazzi, questa è una partita vergognosa. Cioè, ma stiamo scherzando. Ma cos'è sta roba? Cioè, mi giochi cavallo D4 e poi mi ritorno indietro. Mi sembra un principiante. Arriva torre per A6 da parte di Carlsen. Carlsen è uno che non scherza. Cioè, gli sacrifica la torre qui, sul pedone. E Nepo ancora è lì che ci pensa, riflette. Dice, aspetta, se gioco questa mossa, che succede? Se gioco quell'altra. E gioca al fere D4. Ovviamente un'altra mossa sbagliata. Qui c'è scacco matto in tre mosse. E vuoi che uno come Carlsen non veda lo scacco matto in tre mosse? No, questo non è possibile. Certo che vede lo scacco matto in tre mosse. Arriva torre per B7 e scacco. E in questa posizione, Ian Nepomnici decide di abbandonare. Prova tantissima vergogna. Perché comunque Nepo è uno che, capito, ha una certa autostima di se stesso. È un giocatore serio, un giocatore pesante. Cioè, gioca a scacchi comunque bene. Questo giocatore qui è irriconoscibile. Ci rimane malissimo, ma estremamente male. Carlsen non reagisce neanche. Carlsen rimane così con la mano sulla fronte. Perché è triste, no? Anche per sua madre. Mentre Nepo rimane proprio... Sembra fulminato. Sembra abbia visto un fantasma, qualcosa. E poi dopo chiude la webcam e scappa. Va a piangere, non so cosa fa. In questa posizione, Nepo decide di abbandonare. Perché chiaramente arriva scacco matto in poche mosse. Dopo re per segue donna per scacco. Re in B8. E scacco matto in A8 con la torre. Una partita completamente dominata da parte di Carlsen. Ma vediamo cosa ci dice la revisione. La revisione ci fa vedere questo grafico tutto bianco. Carlsen ha commesso praticamente un solo errore. Ovvero cavallo B3 che gliela dava come mossa mancata. Però questo è un dominio assoluto. Perché il nero non ha mai avuto nessuna chance. Cioè, questa è una bella partita di scacchi per il bianco. Per il nero è disastrosa, ma per Carlsen è bella perché... Cioè, zero chance concesse. 91.1 di precisione contro 73. Che 73 a questi livelli è veramente poco. C'è da dire pure questo. E 91 non è tantissima come precisione. Ma la partita invece per me è molto interessante. Perché ci fa capire il divario tra numero 1 al mondo e numero 4. Cioè, non è possibile questa cosa. Numero 1 e numero 4 giocano contro. Finisce 3 a 0 per il numero 1. Non è che finisce 2 a 1 o 2 a 2 e poi vanno i supplementari. No, no. 3 a 0 con una partita del genere. Cioè, nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Cioè, nessuno direbbe... Oh, in questa partita io punto che Carlsen vincerà in una ventina di mosse e lo spacca proprio del tutto a Nepo. Ma chi l'avrebbe mai detto? Una partita da 10 più 2 poi. Perché Nepo è un buon giocatore. E invece è andata così. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima.